Benvenuti ragazzi in questo nuovo metodo di compravendita, siamo con Evra della Juventus, terzino sinistro, un giocatore veramente completo e ve lo consiglio anche per la squadra. Oltre a questo, allora l'ho preso a 1.800, lo rivendo a 2.000-2.100, un profitto di 150 crediti perché la tassa non è tanto, ora me lo vado a vendere. Però ragazzi a 1.800 così, però nescono anche a 1.700-1.600, il suo prezzo minimo è 700, perciò nescono anche a 700 e vi fate poi un bel profitto di 1.700 crediti e passa anche. Ecco ragazzi, ne ho preso 1.700, l'ho preso dopo circa 2 minuti, 1 minuto e mezzo, e ora lo vado a rivendere a 2.000 e mi faccio un profitto di 200 crediti. Ragazzi, che vi posso dire? Ora lo vendo subito, allora non è un profitto veramente esagerato tipo di 500-1.000 crediti, 1.000 crediti di 500 li potete fare tranquillamente perché se cercate, state anche 5-10 minuti, ma lo trovate a 700, cioè al prezzo minimo a 1.300-1.400, però già prendendoli a 1.800-1.700, facendo un profitto di 200-150 crediti a giocatore, tipo ve ne prendete una 5 e fate tipo 200-150 crediti a giocatore per 5 tipo all'arrivata a 1.000 crediti, piano piano poi si può fare un sacco di crediti con questo giocatore. è una compravendita, oddio no, non ne ho più, ragazzi è una 1.600, avete visto che se ne è uscito uno pure a 1.600, ora non ci sarà più, ovviamente, ora me lo prendi il giocatore, disgraziato, oddio ce n'era una 1.600, vabbè, dettagli, ragazzi avete visto che ne escono veramente tanti, vi invito a lasciare un bel pollicione in su per questo metodo di compravendita, spero che vi sia piaciuto il video e che vi sia stato di aiuto, come sempre, come ho detto prima, vi invito a lasciare un pollicione in su, commentate, iscrivetevi se siete già fatto, condividete questo video con i vostri amici, da TheGamerTutto è bella.